Sulle polemiche tra il sindaco Ferrara e il vice sindaco De Cesare, tra risanamento finanziario del comune di Chieti e Cantieri, bilancio del 2023 e propositi per l'anno 2024, abbiamo sentito l'ex sindaco di Chieti Umberto Di Primio che ha risposto così alle nostre domande. A cui è agitata in comune a Chieti con un dissesto dichiarato pochi mesi fa da ex sindaco, come vede ciò che sta accadendo in particolare alla Tete Servizi? Intanto un dissesto più che dichiarato voluto perché è il frutto della incapacità di chi voleva un predissesto, non è stato capace di programmarlo, non è stato capace di costruirlo e quindi si è ritrovato con la grave bocciatura della Corte dei Conti e quindi con la dichiarazione obbligata di dissesto. Le acque agitate credo che siano una cosa normale in politica, il confronto è sempre un po' il sale della politica. Certo, quando il confronto viene in un contesto che è normale, come quello delle coalizioni, viene derubricato appunto come mero momento di confronto costruttivo. Quando nasce invece in una situazione come quella che abbiamo al comune di Chieti, un esperimento di laboratorio uscito male con un'amministrazione biscefra, tricefra, ormai non so più come definirla, è evidente che non è confronto ma è uno scontro. Uno scontro fatto di ricatti che poi portano l'amministrazione ad essere ferma su se stessa. È un'amministrazione che vive di selfie e di dichiarazioni, di autocelebrazioni, si autoincenza ma io la inviterei a andare un po' tra la gente dove invece il malumore cresce sempre di più. E non per, come dire, una benevolenza nei confronti del passato, ma per un critico giudizio su quello che oggi sta facendo questa amministrazione. Quindi penso che il problema vero siano loro. Sulla Tieta dei Servizi io non ho molto da dire. Ho detto quando l'ho denunciata nel 2018, quello che pensavo della Tieta dei Servizi, sono molto preoccupato, non per i lavoratori che si sarebbero potuti salvare diversamente, sono molto preoccupato per quello che stanno facendo perché da avvocato dico che veramente stiamo tirando un po' troppo questa coperta e vorrei vedere per davvero cosa pensa il Tribunale di Chiedi di fare di fronte ad un concordato che, insomma, sembra non avere i piedi per camminare. Strategia politica o malagestio quella di Ferrara? Ma l'ho già detto. Credo che sia incapacità. E l'hai incapacità, ma sa, manca una cosa fondamentale, che è l'amore per la città. Si parla di teatinità come slogan, ma non si sente ogni buco come se fosse un problema di la strada, come se fosse un problema proprio. Non si sente il problema delle scuole chiuse, non si rimane svegli la notte perché stanno succedendo queste cose. Ho l'impressione che questo sia per loro un passaggio, per qualcuno carrieristico, per altri di ambizione personale, ma non vedo nei loro occhi la passione e la voglia di chi fa il sindaco e di chi fa l'amministratore comunale.